Il Piemonte torna da lunedì in zona gialla, la curva del contagio e i ricoveri ospedalieri continuano a migliorare. Dunque, da lunedì saremo gialli, con dati che già da oggi si avvicinano verso il bianco. Ma continuiamo a essere responsabili e vacciniamoci. E' quanto sottolineano il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, l'assessore della sanità Luigi Genesi e Cardi. Nella settimana 7-13 febbraio in Piemonte il numero dei nuovi casi risulta in netta riduzione rispetto alla settimana precedente. L'RT puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi resta pressoché costante e migliora anche l'incidenza. La percentuale di positività dei tamponi si riduce e migliora anche il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva che si abbassa dal 15,8% all'8,9%.